Musica Torna ad abbattersi sulla provincia di Arezzo e il maltempo, un'altra giornata all'insegna dei forti temporali e dell'istabilità. Molte le telefonate al centralino dei vigili del fuoco di Arezzo per segnalare allagamenti, special modo di sottopassi e seminterrati ma anche di abitazioni. La zona maggiormente colpita nel pomeriggio di mercoledì è stata indubbiamente la Valle di Chiana, dove un violento nubifragio si è abbattuto su Castiglion-Fiorentino in un'oretta. Il temporale ha causato numerosi allagamenti richiedendo in molti casi l'intervento dei pompieri. Ma le attività dei vigili del fuoco di Arezzo nel pomeriggio di mercoledì hanno interessato anche la città, decine gli interventi per allagamenti, in particolar modo in via Cavour e in alcuni sottopassi del centro cittadino. Ancora dunque una giornata sotto una violenta tempesta estiva che ha allagato le strade della provincia, trasformandone alcune in veri e propri corsi di fango.